buonasera a tutti sono alberto studente di volum master vi presento questa nuova operazione live che ancora aperta in questo momento che ho aperto oggi in mattinata oggi il 17 di febbraio e sono le 20 40 attualmente e come vedete questa operazione è stata aperta intorno al 12 30 qui dove c'è la freccia questa freccia blu ho comprato tre contratti micro sto operando su dax micro dax questo è un grafico a 15 minuti e questo è lo stesso grafico a due minuti quindi si vede la situazione zoomata sul punto d'ingresso sostanzialmente oggi sono entrato perché attraverso i nostri setup volumetrici mi hanno permesso di individuare con precisione questo come punto di inversione del mercato e quindi arrivato a un setup volumetrico ben preciso qui sotto abbiamo un indicatore di ciclo che mi conferma la partenza di un ciclo giornaliero quindi dopo questa prima finta che il mercato ha fatto a rialzo poi è tornato giù qui dove c'era la freccia oggi verso le 12 30 ho effettuato il mio ingresso e vedete che subito dopo l'ingresso il prezzo è partito in modo deciso rialzo e sta ancora salendo e attualmente sono arrivato a un profitto di 430 euro sta oscillando tra i 430 e 450 euro e quindi si vede chiaramente come un setup di inversione un setup volumetrico ci ha permesso di individuare in modo molto preciso il punto di inversione del mercato per cui alle dovute conferme volumetriche vedete questo è lo stesso è lo stesso grafico lo stesso strumento ma con uno zoom a due minuti quindi questo è il punto questo punto di minimo lo si vede qui delle 9 40 il mercato ha fatto subito una partenza poi un tornato giù e quindi in questo punto verso le 12 30 invece avendo avuto le conferme volumetriche che ci servono ho effettuato il mio ingresso qui a 15 394 e da lì il mercato c'è stato solo un piccolissimo drawdown di una decina ventina di punti poi il mercato da lì ha cominciato a salire ed è salito in continuazione fino fino a questo momento attualmente vi mostro l'operazione ancora aperta perché sto aspettando di questo è sempre il dax però su un altro strumento giornaliero questo è il nostro dna uno strumento che fornisce l'academy che prevede i massimi e minimi del mercato quindi si allinea perfettamente a quello che è stato il minimo precedente e proietta una traiettoria probabile e indica un punto di possibile massimo di questo ciclo giornaliero che ho partito oggi stasera verso le 22 30 quindi aspetto ancora un po' prima di chiudere la posizione come vedete è stato possibile è stato possibile realizzare dalle 12 30 a stasera un 430 euro di profitto senza nessun rischio di ribasso questo è quello che ci consentono di fare dei setup volumetrici ben precisi che con le dovute conferme ci indicano i punti di svolta del mercato un saluto a tutti grazie grazie grazie